Salve ragazzi, cari amici, eccomi qua, ancora una volta nel Borgno, sono qua a fare un giretto in moto, mi trovo a Kuching, questa è l'autostrada che porta fuori città, volevo farvi vedere e condividere con voi questo tratto di strada perché è veramente una figata, guardate un po', bellissimo lì dietro abbiamo anche delle casette, le palme, eccoci qua, questa è un'autostrada veramente incredibile, bellissima, da qui si gode un paesaggio spettacolare, il mio giro continua sulla mia moto sferenata e ci sentiamo alla prossima